Salute in onda, il podcast di medicina moderna. In questa puntata di Salute in onda parliamo di scogliosi in età adulta e lo facciamo con il dottor Paolo Regolo, specialista in neurochirurgia, che oggi è qui con noi in studio. Bentrovato dottore. Buondì, bentrovati a voi. Allora, la scogliosi in età adulta, come mai si manifesta? Si pensa che sia una patologia che riguarda e colpisce solo bambini e adolescenti, ma non è così? No, non è così perché la scogliosi in età adulta è una cosa molto diversa rispetto alla scogliosi del bambino o del giovane. Quella del giovane e del bambino è una scogliosi di tipo malformativo, mentre la scogliosi dell'adulto è una scogliosi di tipo eminentemente degenerativo, cioè dovuta all'usura di alcuni componenti della colonna vertebrale, in particolare dei dischi intervertebrali, che sono gli ammortizzatori che stanno tra le vertebre, che a loro volta sono i mattoni di osso che compongono la nostra colonna. Ecco, ma allora è possibile correggere la scogliosi in età adulta? Sì, è assolutamente possibile correggerla, soprattutto con le nuove tecniche, quelle che ci sono diciamo da circa 10-12 anni, che prevedono una sostituzione completa dei dischi, i quali possono essere sostituiti con degli approcci innovativi che sono per via anteriore o per via laterale. Quindi bisogna sostanzialmente in certi casi spostare un po' l'intestino e i grossi vasi che stanno davanti alla colonna, in altri casi invece passare di fianco al di dietro dell'intestino. Una grande novità. Ecco appunto, lei diceva, le cause sono soprattutto legate all'usura appunto del... Sì, le cause sono chiaramente legate in primis alla genetica, perché bisogna vedere di quale qualità è questa colonna, per cui uno può nascere con una colonna di una certa qualità oppure di un'altra e quindi fa la differenza come in tutte le cose. Poi naturalmente che cosa uno fa e quindi l'usura è assolutamente rilevante, in quanto se tu fai un lavoro con il quale per esempio carichi sacchi di cimento da 50 kg 100 volte tutti i giorni, chiaramente la tua colonna si usurerà di più, oppure se pesi 30-50 kg più di quello che dovresti pesare, sicuramente il carico sulla colonna non ti aiuterà. Ecco, quindi questi sono comportamenti posturali ovviamente che vanno corretti sin da subito. Eh, per quello che si può, non è così semplice correggere 50 kg in più e non è così semplice trovarsi un altro lavoro invece che fare magari il mugnaio. Per quello che si può, si può correggere, si prova a correggere. Insomma, delle accortezze... Sì, le accortezze sono importanti. Intanto voglio dire, se il lavoro fosse difficile cambiarlo, sicuramente stare 30 kg in più invece che 30 kg in meno, cioè a peso forma, a quello lo si può fare. Aiuta. E certo. E quando è dunque opportuno fare una visita specialistica? Quando è che ci si rivolge allo specialista per appurare appunto il problema? Beh, diciamo che il primo sintomo è certamente il mal di schiena, che è una delle patologie dolorose più frequenti, però non il mal di schiena sporadico, quello che ti viene avvolto ogni tanto, quello che praticamente affligge chiunque di noi. Quello che conta è il mal di schiena cronico, cioè quello che non ti lascia mai, che non ti fa dormire e che delle volte ti costringe ad un riposo forzato, cioè il colpo della strega. Insomma, un mal di schiena molto significativo è sicuramente il sintomo più importante di un'alterazione morfostruttura della colonna, cioè di una scogliosi degenerativa. E poi, insieme a di schiena, ci sono altri segni che possono essere, che possono venire fuori in maniera concomitante oppure successivamente, che sono soprattutto dei sintomi irritativi o deficitari a carico dei nervi che vanno prevalentemente alle gambe, cioè sostanzialmente una sciatica o una cruragia. Benissimo dottore, io la ringrazio per aver risposto alle nostre domande. Vi ricordo che potete approfondire l'argomento visitando il sito di medicinamoderna.tv. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie a voi.